Mass Week 2019, architettura, design, arte, in campo grandi nomi come Michelangelo Antonioni e Oliviero Toscani. Sì, e di Oliviero Toscani la fotografia che sicuramente avrete visto per Mosaico Digitale, Graffiti for Smart City, è un pannello digitale interattivo che abbiamo avuto grazie a Salvatore Pepe e la sua società Mosaico Digitale e raffigurante una fotografia di Oliviero Toscani che ci ha gentilmente concesso di poterla utilizzare. Oliviero Toscani sarà anche il protagonista della conversazione con Gianluca Peluffo che si terrà a chiusura della Mass Week sabato alle 20.30. Michelangelo Antonioni è il protagonista, uno dei protagonisti della Mass Week con il film La Notte che sarà proiettato, ricordo, ad ingresso libero al teatro cinema, teatro comunale Fusco. Insieme a me ci sarà anche l'assessore Augusto Oressa per un confronto tra cinema e architettura appunto sul film. Voglio ricordare inoltre che sempre... Quando è prevista la proiezione del film di Antonioni? Il 10 ottobre, giovedì, alle ore 20.30. Voglio ricordare inoltre che in programma c'è anche un documentario su Gioponti, dal titolo Amare Gioponti e ci collegheremo via Skype con la regista Francesca Molteni che ci racconterà del suo amore per Gioponti e naturalmente ci parlerà della realizzazione di questo documentario che ricordiamo non è uscito per i circuiti diciamo nazionali per cui è davvero imperdibile a mio avviso. Anche questo dedicato a tutti, tutti sono invitati a partecipare e ad entrare liberamente e gratuitamente al Fusco per usufruire e vedere questo bellissimo film.